I candidati, le liste e i programmi elettorali. Come si vota? Dove si vota? A queste e ad altre domande risponde a RietiLife Magazine Speciale Elezioni. Tutte le informazioni più utili in vista delle prossime amministrative le trovi qui. Vuoi esserci? Contatta il nostro ufficio marketing per conoscere i dettagli. RietiLife Magazine Speciale Elezioni. Il magazine che serviva. Un'idea RietiLife. RietiLife Magazine Speciale Elezioni Rieti. Telefono 0746 20 30 34. Acqua di Fonte Cottorella. Dalla fonte. Direttamente a casa tua. Acquistala su www.cottorella.com Big Mat ed il tutto. Dal 1981. Tutto per costruire e ristrutturare casa. Griglia Playout. Adesso è entusiasmante. Sì, proprio così perché a 90 minuti dal termine del campionato ancora non si è deciso nulla. Per quello che può accadere in questa griglia. Addirittura non si sa neanche che è la squadra che si salva direttamente tra Scandicci e San Giovannese. Perché insomma c'è l'ultima giornata che ancora deciderà questa. E poi c'è il discorso che basta vincere o pareggiare a Rieti a Monte Spaccato Domenica per avere la certezza matematica di giocare il Playout qui in casa al Maglio Scopigno. O con il Foligno o con l'Unipo Mezzia. Se una delle due chiaramente vince. Se pareggiassero basterebbe terminare in questa maniera perché saremmo matematicamente certi di giocare al Maglio Scopigno. Insomma sono cose che vedremo con calma durante la trasmissione. Ma prima di tutto dobbiamo ricordare che c'è un bel evento sabato al Maglio Scopigno alle 15.30. Ci sarà la finale della Coppa Italia della Lega Nazionale Direttanti tra Salso Maggiore e Barletta. Due squadre che ambiscono a questa vittoria per poter fare in modo di salire direttamente in Serie D. Insomma è una scorciadoia per poter passare di categoria. Non so se abbiamo in diretta il segretario generale Massimo Ciaccolini della Lega Nazionale Direttanti. Vi chiamo subito. Massimo? Sì, buonasera. Ciao. Ciao Massimo. Ciao, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Ecco, come va innanzitutto? Ci sentiamo raramente noi. Sì, è vero. Però torniamo a Rieti con grande direzione ovviamente perché tu hai illustrato che ci sarà sabato la finale della Coppa Italia Direttanti. Senti, ma... Sì, prego, prego. Ma come mai è stata scelta Rieti? Dai, diccelo. Allora, innanzitutto Rieti è già tutto il mondo dentro d'Italia e quindi, voglio dire, viste le penalizze che si contenderanno all'ambito trofeo, tanto maggiore e famigliata, Rieti poteva e può garantire l'equidistanza, diciamo, e quindi permettere alle diffuserie di affrontare una trasferta sbordabile. Se avessimo fatto questa finale a Firenze, come generalmente prima della pandemia abbiamo fatto nel centro di formazione federale della Lega Nazionale dei Santi a Firenze, non avremmo potuto garantire questa equidistanza ai supporters del Barletta. E quindi Rieti, che è una splendida location, che forno di tempo non è la prima volta che abbiamo fatto, non solo come Lega Nazionale dei Santi, ma anche come federazione, manifestazioni e eventi importanti, perché io ricordo che il centro d'Italia, Maglio Scopigno, è stato proprio inaugurato nell'ottobre del 1996, proprio con Monterebettuno, una gara tra Italia e l'Induspera. E noi, come Lega Nazionale dei Santi, prima della pandemia, a Rieti abbiamo fatto uno spareggio, è importantissimo per la promozione, tra l'Avellino e il Lanusei, e poi ricordo anche una bella finale del campionato nostro di Noreste, e poi a cortina della pandemia anche a Rieti c'è stato l'evento il calcio di parte anche ad Amatrice, che c'è stata appunto questa manifestazione importante a margine della gara tra Amatrice e l'Abro Calcio e il Città Dugale, che all'epoca valeva il campionato di terza categoria. Quindi con grande piacere torniamo in questa città, che fa molto per lo sport, e io devo ringraziare l'amministrazione comunale di Rieti, che si è inizia a disposizione per questo evento. Rieti è casa della Lega Nazionale dei Santi, perché c'è una squadra che fa il campionato di Serie D, quindi io ringrazio ovviamente l'amministrazione comunale, nella persona del sindaco Cecchetti, dell'assessore dello sport, Donati, e devo ringraziare anche il professore di Rieti, Fabotti, il capo di gabinetto della professore di Rieti, il dottor Sabio, che si sono messi a disposizione ovviamente per far sì che sia una festa sabato, come tutti quanti noi ci auguriamo. Ovviamente un ringraziamento che devo estendere anche al Rieti Calcio, nella persona del Presidente Cecchetti, anche del segretario Giancarlo Palma, che in questi giorni stiamo facendo fare degli straordinari, per il lavoro che necessariamente deve essere coordinato con gli uffici della Lega Nazionale dei Direttanti, e appunto la segreteria del Rieti Calcio per questo evento qua. Insomma, ecco, quindi siamo veramente felici di ritornare a Rieti. Senti Massimo, io ho qui due opinionisti che sicuramente vogliono chiederti qualcosa, e lo faranno tra qualche momento, Nunzio Rucci, il capitano storico del Rieti, capitano giocatore, presidente di tutto, e un altro opinionista, Simone Lunari, che è un ragazzo che di calcio ne capisce parecchio. Ma ti voglio lasciare con una domanda, chi verrà a premiare? Ed era proprio il Presidente della Lega Nazionale dei Direttanti, Giancarlo Abete, che è stato eletto di recente proprio nell'assemblea elettiva straordinaria che ci si è tenuta a Roma il 21 marzo scorso, dopo il periodo commissariale che lo stesso Abete ha gestito sull'indicazione del Consiglio federale. Quindi ci sarà sicuramente il Presidente Abete, ci saranno per il Comitato Nazio il Vice Presidente dei Viicati Calzolari, e ci saranno i Presidenti dei due Comitati regionali che sono a pressione delle società finaliste, Bitotisci per la Puglia, Bitotisci, peraltro è anche il Presidente nazionale del settore giovanile e scolastico, e per il Comitato regionale Emilia Romagna, rappresentante del settore maggiore, ci sarà il Presidente Alberisci. Quindi insomma, contiamo di fare una bella festa. Tra le altre cose, ti dico che domenica c'è stato, in Puglia lo spareggio, promozione tra lo stesso Barletta e Martina Franca, ha vinto il Barletta, quindi il Barletta ha già guadagnato la promozione in Serie D attraverso il campionato di Eccellenza Pugliese. E anche se il Stanzo Maggiore dovesse perdere la finale di Coppa Italia di Rieti, comunque in base al regolamento salirà in Serie D anche il Stanzo Maggiore. Il campionato non ha lottato per le zone alte della classifica. Quindi insomma, via, si preannuncia una bella festa. E quindi sarà una festa nella festa, dai! Eh sì, sicuramente, perché c'è ovviamente grande entusiasmo e stiamo cercando di fare del tutto appunto per far sì che sia dopo la pandemia, perché noi qui ritorniamo a fare un evento importantissimo, e Rieti da questo punto di vista sarà protagonista. Torniamo a fare un evento importantissimo proprio dopo la pandemia. Quindi è una gara, è una finale che si carica anche di questi significati importanti. Un'ultimissima cosa, prevedi tanta gente? Guardi, adesso la pre-vendita è iniziata ieri. C'è la pre-vendita online, ma c'è anche una pre-vendita diciamo con posti bis in presenza, come si usa dire adesso, sia a Barletta che a Stanzo Maggiore e anche nella città di Rieti. Noi lo speriamo veramente, insomma. Ecco, dal punto di vista climatico le previsioni dovrebbero essere favorevoli e questo è già una buona cosa e quindi contiamo anche sulla presenza degli appassionati di calcio di Rieti. Questo senz'altro e sarà occasione anche per incontrare voi, operatori dell'informazione, che ci state dando veramente sempre tanta collaborazione per parlare del calcio dilettantistico che sta a cuore a tutti noi, che è la base del calcio. E nel nostro piccolo daremo sicuramente una mano. Ecco la domanda, Anunzio. Buonasera, dottor Ciaccolini. Buonasera, buonasera. Una domanda. Ho notato, in particolare quest'anno, che la maggior parte delle squadre del nostro campionato, quello che abbiamo fatto noi, il Gironè, ma penso che anche gli altri Gironi, specialmente verso il Nord, hanno utilizzato molti giovani, molti più di quelli che potevano essere utilizzati cioè i quattro ragazzi con le varie età diverse. Faccio un esempio. Domenica qui a Rieti è venuto il Gavorrano con 7 under, la Rieti ne aveva 6. Quindi diciamo che era una juniors rinforzata. Io almeno la vedo in questo modo. Secondo lei, e io credo che lei mi risponda positivamente, è un bene. Secondo me, che io ho fatto tanti campionati quando non esistevano queste limitazioni, erano molto più difficili, vedo molto in giù il campionato di Serie D. Ho capito, ovviamente io non sono un tecnico. La domanda però è simpatica, perché effettivamente la Serie D l'abbiamo ridotta a un campionato juniors. Vengono delle squadre con 7, 8, 9 under, ragazzi di 18-19 anni. Sì, è vero che è un bene, io sostengo che è un bene per giocare i giovani. E giustamente bisognerebbe poi portarli sempre più avanti. Però, insomma, si vedono certi spettacoli e mi riferisco agli anni passati. E ci fermiamo qui, certo. Io gliel'ho fatta la domanda. No, no, ma questo è un dibattito aperto da diversi anni. Io, devo essere onesto, non essendo un tecnico non posso esprimere valutazioni come le può esprimere lei, che è un tecnico e quindi... No, ma io ho una discussione... No, ma questa è una discussione... Però è un argomento, questo è un dibattito che è aperto da tempo, no? Perché c'è chi dice sostanzialmente, ma se i giovani sono bravi, giocano indipendentemente dall'obbligo di farli giocare. Dall'altra parte c'è il partito di chi dice, ma guarda che se tu non obblighi comunque un minimo di far giocare i giovani, i giovani sostanzialmente vanno un po' nel dimenticatoio. E questo è un dibattito che non è che è soltanto aperto in ambito direttantistico, ma anche in ambito professionistico, e nel raffronto che c'è tra il calcio italiano e il calcio europeo. Perché molti dicono, ma perché in Inghilterra a vent'anni già si ha acquisita una certa esperienza, non solo nel massimo campionato nazionale, ma anche a livello di coppe europee, quindi attività internazionali, invece in Italia si fa più fatica, poi in Italia c'è il problema che i calciatori selezionati per la nazionale italiana, quindi i calciatori italiani, si riducono sempre più. E questo è un dibattito apertissimo, ed è un dibattito sicuramente che è al centro delle attenzioni, non solo della Liga Nazionale dei Gatti, ma anche della Federazione, perché secondo me da qui si gioca il futuro, in un senso e nell'altro anche della competitività del nostro calcio. È una valutazione mia personale. Sì, certo, certo Massimo, simbolo, velocemente. Buonasera dottore. Se non ricordo male, anni fa si parlava di una sorta di rivoluzione della Lega Nazionale dei Direttanti, e ancora nell'area di una sorta di rivoluzione, di rivoluzionare un pochino la Lega, è ancora nell'area di queste ipotesi, oppure rimanerà più o meno uguale? Ma se si fa riferimento alla riforma dei campionati... È questo, è questo, è questo, volevo chiedere, sì. Allora, anche questo è un tema caldo, diciamo, per usare un termine giornalistico, è un tema caldo ovviamente in discussione, che poi peraltro si è riaffacciato ultimamente dopo l'esplosione, purtroppo l'ennesima, la seconda consecutiva dell'Italia dei campionati del mondo. C'era stato, diciamo che questo è un problema che ha attraversato nel corso degli anni le varie gestioni federali, perché io ricordo che già all'epoca della Presidenza federale di Tavecchio, che veniva ed è arrivato ad essere Presidente della Federazione, passando appunto per la Presidenza della Lega Nazionale dei Direttanti, che si parlava della riforma dei candidati, come l'avamo di tutte le materie. Certo, certo, certo. Oggi si è riaperto, ma ancora non si intravede in ospirato. È evidente che se ci sarà una riforma, la Lega Nazionale dei Stati, per i collegamenti che ci sono tra le varie categorie del mondo professionistico e la periodia in primis, che è la nostra vita di diamante, sicuramente ci saranno necessariamente dei coinvolgimenti. Al momento però mi sembra che la situazione è ferma, e quindi almeno per questa sezione sportiva noi concluderemo le nostre attività, ad esempio quindi farete la seconda di eccellenza per la promozione del Sede T e i meccanismi di promozione e di reprocessione della Sede T ai campionati professionisti e ai campionati di eccellenza sono rimasti limitati. Quindi ancora è di dire, aspettiamo, il grande problema qual è? Quello sostanzialmente, anche qui, ispirandosi nei modelli europei, per le situazioni più importanti a livello europeo, come in Gisera, in Maglia, Francia, Spagna, è di ridurre l'area professionistica e di, sostanzialmente, disperitare il settore di vita artistico e attraverso invece un forcimento che non è definibile come quello che poteva essere all'epoca la lega semiprofessionistica, ma comunque attività di società che vengono regolate sotto il profilo dei rapporti concattuali tra gli investerati e le società da contratti diversi, come quello dell'attrezzato, sostanzialmente, ma questo, torno a ripetere, ancora dei passi importanti, decisivi, ancora non sono stati fatti. Siamo soltanto a livello di ipotesi, di progetti, e comunque io ritengo a breve una direzione, dovranno prenderla. Sicuramente, sì. Anche di recente il Presidente della Lede di Palata ha, diciamo, parlato di accelerazione e di definizione, o comunque di presa di disposizione e di decisioni sulla direzione della riforma dei campionati. Massimo, io ti ringrazio moltissimo di questo intervento, di questa tua partecipazione alla mia trasmissione, e ci vediamo sabato allo stadio. Sì, dai, benissimo, sono contentissimo, e via, dai, che vinca il migliore sempre, ma che vinca la Lega Nazionale di Lettani. Perfetto. Scusate, se sono un po' di parte. Grazie Massimo, buonasera. Grazie a voi. Grazie anche a voi. Ciao, buonasera. Bene, abbiamo sentito squisito il Segretario Generale. Assolutamente, un grande parlatore. Una persona capace, competente. Certo, assolutamente. E allora, vediamo che cosa è accaduto, il risultato di classifica della giornata di domenica, una giornata che poteva, ma vedo qui in diretta un amico, che non so se ci sta ascoltando. Giacomo, mi senti? Giacomo, l'audio, l'audio, non sentiamo le tue parole. L'auricolare, auricolare, è l'audio, non lo sentiamo. Non lo sentiamo. Giacomo Bertelli, l'addetto stampa del San Donato Tavarnelle, che non riusciamo a contattare. Ci riproverà da qualche momento, questi sono i risultati. Cascina-Monte-Spaccato 2-2, Canara-Tiferno 1-1, Flaminia-Sandonato 0-1, Rolano-Arezzo 2-0, Pialese-Poggi-Bonsi 1-4, Rietica-Vorrano 1-2, Scandicci-Pro-Livorno 2-2, Tresti-Napoligno 2-0, Unipoezia-San Giovannese 0-0. Per una classifica che vede il San Donato, ormai vincitore di questo campionato, con 78 punti, e quindi c'era il collegamento con l'addetto stampa, poi il Poggi-Bonsi 73, via via tutte le altre, nella parte destra, quella che ci compete, dicevamo con il titolo e negli ultimi 90 minuti, dallo Scandicci con 40, San Giovannese 38, Riedi 34, Poligno-Nipoezia, ci sarà la griglia dei play-out. Come vi avevo accennato, basterebbe a Riedi un solo punto, a Monte Spaccato, per poter far sì di arrivare a quota 35, e quindi non essere raggiunti, né dal Poligno se vincesse, tanto meno dall'Unipoezia. Per cui il play-out potrebbe essere giocato, in casa dalla formazione Amaranto Celeste. Questo è un po' l'assunto della giornata di domenica, Anunzio. Ma domenica, purtroppo la partita non è andata come forse si doveva fare, qualche cosina in più, per portare via quel punto che poteva essere necessario, poi per affrontare meglio i play-out. D'altronde abbiamo sbagliato un paio di occasioni a tu per tu con il portiere. Vediamo le fasi salienti, mentre tu parli, magari così vediamo quello che è accaduto. E poi la squadra ha mostrato i normali limiti della nostra squadra che purtroppo perde queste partite, proprio perché io continuo a sostenere quando si fanno queste squadre giovani bisogna prendere un pochino esempio dal Gavorrano. Io me la sono stata a studiare domenica il Gavorrano. Sì, questa è una papela del portiere loro che praticamente non si è fatto passare il pallone non lo so dove. Un bel tiro comunque. Sì, vabbè, un bel tiro. No, dicevo, bisogna guardare bene il Gavorrano. Il Gavorrano è tra le prime 4-5 squadre di questo campionato. È venuto qui, ha fatto la sua onesta partita senza strappare, senza neanche dominare. Però bisogna considerare che il Gavorrano ha 7 ragazzi, 7 under in squadra, come dicevo prima al segretario. Questo è il gol del parigi. E noi ne avevamo, questa è una specie di autogolle. Di azione, sì. E noi ne avevamo 6. Però la differenza qual era? È che il Gavorrano ci è partito dall'inizio con i ragazzi. Ha messo dentro quei 3-4 grandi e poi ha fatto una squadra abbastanza equilibrata. Questo è il primo gol, non si è quello che dicevamo, il gol sbagliato. Questo è uno dei due golli che ha sbagliato Vari. Eccolo qua. Vabbè, il portiere c'è. Sì, ma l'errore dell'attaccante. Sì, però ha fatto una bella parata al portiere. Sì, ma ancora peggio dopo, tra qualche momento. Ecco il secondo, guarda, insomma, qui ha stoppato la palla Vari, ha anticipato l'avversario, solo di fronte al portiere. Qui non è bella parata del portiere, diciamocelo. Quale errore dell'attaccante. Il gol è sbagliato, ma il portiere c'è là davanti. Voglio dire, è uscito bene il portiere, gli ha coperto lo spazio, non è stato fortunato. A volte gli passa a mezza le gambe, a volte gli passa da una parte. Certo, erano due occasioni d'oro che si poteva andare in vantaggio. 3-1, anche poi, perché verso la fine poi c'è stato quel gol annullato per fuorigioco, due belle parate del nostro portiere, chiaramente, ma eravamo sul 2-1, a Coulibaly, insomma, non so, adesso vedremo le fasi rallentate se c'era o meno fuorigioco, però, insomma, dalla tribuna non sembrava, questa è la fine del primo tempo, nei primi minuti del secondo tempo mi sembra che sia accaduto proprio questo. Insomma, c'è il lancio lungo perché è rientrato Coulibaly, che non era, questo è il gol del 2-1, eccolo qui, un rimpallo, praticamente, si è alzato il pallone, eccola qui, lo vediamo, è rallentato. E' stato, sì, tre gol strani, Simone, infatti, anche il portiere è qui, poche responsabilità, perché, insomma, in una mischia, in area, prendere un gol di questo tipo, erano poi i primissimi minuti del secondo tempo, ma c'era ancora tempo per poter recuperare, ha provato in tutti i modi il mistero di raddizione a raddrizzare la partita, ha cambiato cinque giocatori, addirittura, è entrato anche Coulibaly, che non era il meglio delle condizioni, quando è entrato Coulibaly, non si è arrivato vicino a me, diciamo, la squadra si è ravvivata davvero, insomma, ci sono state delle occasioni da gol importanti per la formazione di una varia antrocerestria, tanto è vero che è andato anche in gol Coulibaly, ma in posizione forse di fuor gioco, adesso lo vediamo meglio, questa è una situazione, una fase in cui Coulibaly poteva avere la palla buona, poi è stato anticipato dal difensore, è stato un batti e ribatti, insomma, abbiamo avuto delle possibilità, la squadra, dobbiamo dire che ha reagito contro una bella squadra, perché Gaborrano è una formazione, come diceva giustamente Nunzio, nonostante avesse tanti giovani di tutto rispetto che merita la posizione che ha in classifica, ecco, insomma, pericolosi qualche volta in avanti quando venivano questi ragazzini. Una squadra che corre e che sta a correre. E questo penso che sia la gol, no, non è questa ancora, c'è una bella girata, dovrebbe essere il prossimo movimento, questa è una mischia in area della Gaborrano, non siamo stati fortunati, anche qui abbiamo batti e ribatti dentro l'area si poteva essere spizzare magari qualche pallone per poter arrivare sulla 2-2 e qui ci dovrebbe essere il gol, ecco, non è questo, non è ancora no, è il prossimo, c'è un lancio, questo dovrebbe essere per curare, toccata di destra, ecco, Goulibaly, a me è sembrato che è partito da dietro, noi se lo vediamo rallentato, c'è la guarderina che ha sbandierato, sta oltre, sta oltre, ecco, la vedi in linea, Goulibaly in linea, forse, forse sì, forse, ecco, vedendolo adesso sembra, sì, vedendolo così sembra for gioco, effettivamente, dalla tribuna non sembrava, il VAR ha parlato, ha variato, insomma, dalla tribuna non sembrava, correttamente, quindi, poi, visto così, sono attimi, sono attimi, se non li vedi poi incerti, e poi l'ennesima espulsione, Simone, insomma, eh sì, questa è stata, il nervosismo della partita, è chiaro che poi ti porta magari a avere un comportamento un attimo fuori, fuori dal normale, in quel caso, era una partita importantissima da vincere, era una partita importantissima, che era buona, buona cosa fare almeno un punto, peccato, perché le occasioni ci sono state, è stata una bella partita, perché alla fine, è una partita giocata da entrambi, da entrambi le squadre, c'è stata volontà, c'è stata corsa, c'è stato agonismo, forse abbiamo recuperato, gioco, ecco, adesso ti sento, perfettamente, ciao, ciao a tutti, ciao, non c'è, non c'è Davide, quindi non te la puoi prendere con nessuno, stasera, anche perché, no, 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 a Davide avrei soltanto detto, appunto, ora magari posso essere di parte, ma davvero a sorpresa di questo, campionato, la vittoria del San Paolo Tavarnello, e lo dico con grande modestia, con grande modestia, perché come avevo avuto modo di dire, stamattina anche al tempo telefonicamente, se facciamo le figurine, il campionato doveva vedere, in prima posizione da Rezzo, al secondo il Follone, a Capulano, squadra altrettanto costruita per vincere, al terzo posto, la Pianese, e poi al quarto posto, un San Paolo Tavarnello, eventualmente, con altre pompagini. Questa doveva essere la silvia iniziale, se proprio vogliamo fare le figurine, in base alla rosa, e agli obiettivi, e quindi lasciando vedere, come dire, il bon ton, o il politico ricordere, se così si vuol dire. Quindi per quello che mi riguarda, dopo la vittoria del campionato, del San Paolo Tavarnello, come si è iniziata, in una posizione per sorpresa, c'è chiaramente il Borgi Bonsi, che ha fatto un campionato straordinario, che l'ha detto più volte, anche il nostro allenatore Paolo Indiani, arrivare a fare tantissimi punti, come quest'anno, e non vederlo raccogliere, il massimo dello sforzo, insomma, un po' una, a virgolette, c'è amarezza, perché l'anno scorso, il Montevarti, con 71 punti, vince questo giugno, e andrò in mezzo. Giacomo, ma Paolo Indiani, nonno campionato, vinto, vero? Sì, e a mia domanda, al termine di questa sfida, per la matropamia civile, la stellana, ha sostanzialmente detto, che ha ancora fame, circa 10 punti. Ma, insomma, è la prima volta, che voi salirete dai professionisti, o sbaglio? Una volta, in assoluto, tra i professionisti, vera e propria gioia, una vera e propria emozione, io credo che ancora, con la piccola realtà, non abbia ancora preso, la piena consapevolezza, dell'impresa che ha fatto. E poi, tra l'altro, questo è stato un anno straordinario, per questo paese, perché c'è anche un'altra squadra, in tutto il paese, giova in prima categoria, e ha vinto la Coppa Toscana. Quindi, è stato un anno straordinario, per questa, per questa comunità, che credo, se la ricorderà, per tutto il percorso, della sua storia. Prima volta, dei professionisti, sostanzialmente, la terza scuola di Firenze, perché Fiorentina è il po' di serie A, e poi, come provincia di Firenze, tra la serie B e la serie C, non c'è nessuno, se non nei neopromossi, che si chiamano San Dato Cavagna. Senti, ho visto qualche filmato, con una scritta, è cotto riso, con una C maiuscola, che significa? Scusa. Il cotto è il rito, il cotto è il rito, che vuol dire? Il riso è cotto, in Toscana, una sorta di logismo, per potire, i giochi sono fatti, i giochi sono fatti, rappresenta semplicemente la vittoria del rito. Ah, il cotto riso significa i giochi sono fatti? Il riso è cotto. Esatto, 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 in Toscana, vuol dire questo, i giocatori da inizio anno avevano avuto questa sensazione, continuavano a ripetere questa frase, e hanno deciso di ricordare questa fantastica giornata, l'8 maggio, sul campo del Flamiglia, scelta a Stellana, con questa maglietta. Giacomo, noi ti abbiamo portato bene, ci siamo sentiti qualche volta, ci siamo collegati, ecco, voi avete vinto il campionato, noi invece stiamo ancora lottando per poterci salvare. E tra l'altro, c'è una curiosità, l'Unione, la Rizzonte Parnelli è stata in testa sempre, dall'inizio del campionato, eccetto una partita, e se vi dico qual è, è quella che avete perso a Rieti. Noi a Rieti abbiamo perso per una giornata la festa dell'Ansifria, e ce la siamo ripresi da domenica successiva. Oh, quindi potrebbe portare bene questo rapporto che abbiamo io e te, questa diretta, per poter fare in modo che domenica, almeno, si possa prendere un punto a un monte spaccato, e giocare il play-out in casa. Certo, certo, sicuramente quello è per me fondamentale, il monte spaccato è salvo, quindi non ha pretesi o meno, veramente io credo che nessuno, ve lo dico tranquillamente, come in Flaminia, nessuno regala niente a nessuno, sarà partita, sarà partita vera, e quindi ecco, vi faccio il mio bocchallupo e spero che questo Rieti, ecco, possa condurre in porto, questa salvezza, chiaramente purtroppo, come dicevate, su me la dirà del Capograno, forse, la Rakili c'è stata a Cascina, perché a Cascina, fino a zero, ho visto gli Arights, forse, non si poteva prendere, per voi, in porto, per le porti, soprattutto il secondo, però si sa, insomma, con il seno di voi, con i secoli, ma, come dire, non si fa la storia. Senti, Giacomo, nel vederti vedo lo scudetto, sembra quello della Roma. Sì, allora, vi dico, no, vi dico questo, vi dico, io organizzo anche eventi di beneficenza, Luciano Spalletti è ricertato, il paese dove vivo, e quando all'epoca lui era alla Roma, l'ultimo giorno che lui stava per andarsene, mi fece capitare una maglietta, autograppata da Totti, della Roma, e anche poi, diciamo, una serie di cose di abbigliamento, che abbiamo dato in beneficenza, per un'associazione di genitori ragazzi, di San Vicertallo, e poi c'era anche un piccolo amaggio anche per il sottoscritto. Non sono un tifoso della Roma, sono un tifoso della Fiorentina, nel caso specifico. Giacomo, io ti voglio salutare, chiaramente non c'è Davide, che vuoi che gli dica, Davide? Semplicemente questo, e l'ha detto Stampa, quando ci siamo sentiti, se non sbaglio, ci siamo sentiti, dopo la partita, insomma, contro di voi, e forse mi rimane, a forse anche una seconda volta, qualche mese più avanti, che non c'è stato assolutamente nessun magheggio o altro. Il Salota Parnelli, quando ha capito che c'era l'opportunità di vincere il campionato, ha deciso di provare a fare questo grande passo in avanti. Ma dire che Salota Parnelli voleva vincere il campionato dall'inizio, questa è una cosa che posso tranquillamente dire, non corrisponde a verità. Ci sono create le occasioni per farlo, ripeto, D'Aleccio doveva stravincere questo campionato, non è andata, non è andata in questo modo, e Salota Parnelli ha dimostrato con tutta la voglia, e frutto anche di ben 80 gol, tutta questa voglia veramente di regalarsi, regalare un sogno. Giacomo, io ti ringrazio davvero, insomma, quest'anno di essere stati insieme più di una volta, abbiamo parlato del nostro campionato di Serie D, chiaramente il prossimo anno, tu sarai nei professionisti, noi speriamo di rimanere ancora nella nostra Serie D, nei direttanti, ma qualche volta ti chiamerò, dai, per fare un piccolo passaggio su come stanno andando le cose nel tuo primo anno in Serie C, va bene? Più che volentieri, io vi ringrazio per l'ospitalità, è stato un piacere anche per me, vi faccio il mio in bocca al lupo per il tuo seguimento, e poi per le partite successive che rivedranno impegnate nella lotta per la salvezza, e io vi ripeto, spero di poter salvare, se n'è stata una di quelle buone squadre che ha battuto la capolista, spero da tutto il punto di vista che possa volentare tutti. Grazie, grazie ancora, ti saluto, ciao! Ciao! Bene, abbiamo sentito anche quelli che hanno vinto il campionato, ma a domenica c'è stata la premiazione del giocatore Rieti Life, Uomo Rieti Life, è stato un premio che abbiamo voluto assegnare alla nostra redazione, la redazione ha assegnato il premio, ma è stato il giocatore più votato dalla tribuna stampa, Omar Koulibaly, un giovane classe 99, le ultime due partite non ha potuto giocare per infortunio, è arrivato a febbraio dal Tiferno, un giocatore che poteva anche fare la differenza se avesse giocato a tempo pieno, ha vinto con autore di 4 gol, che non sono poche nelle poche partite che ha giocato e l'abbiamo premiato, quindi vogliamo vedere un attimo il servizio breve breve, prima della partita con il Gavorrano abbiamo sentito Koulibaly. Omar Koulibaly è il giocatore dell'anno possiamo dire, premiato dalla tribuna stampa, il giocatore che ha avuto più voti, che valore ha per te? Io grazie al mio allenatore e alla squadra, tutti i giocatori, loro mi hanno avuto per giocare bene su campo, anche grazie per la squadra, per tutto. Quindi porterai con te questo ricordo di Rieti? Sì, sì, questo è una... non lo so come diciamo, sono contento, sono molto felice per questa, mi ha avuto per continuare a lavorare di più e per aiutare la squadra ancora di più. La tribuna aspetta da te altre soddisfazioni, quelle che dai, quanto segni, meravigliosi gol. Speriamo, 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 dopo qualche giorni che sono fortunato, speriamo che facciamo bene oggi. I candidati, le liste e i programmi elettorali, come si vota, dove si vota, a queste e ad altre domande risponde a Rieti Life Magazine Speciale Elezioni. Tutte le informazioni più utili in vista delle prossime amministrative le trovi qui. Vuoi esserci? Contatta il nostro ufficio marketing per conoscere i dettagli. Rieti Life Magazine Speciale Elezioni, il magazine che serviva, un'idea Rieti Life. Igenia e sicurezza nell'ambiente in cui lavori. Scegli Puligen, prodotti e attrezzature per pulizie civili e industriali al tuo servizio. Fabio Grillo, Agenzia Funebre, unica sede, Viale dei Ulis, 68 70 72 Rieti, telefono 0746 20 30 34. Acqua di Fonte Cottorella, dalla fonte, direttamente a casa tua. Acquistala su www.cottorella.com Big Mat ed il tutto. Dal 1981, tutto per costruire e ristrutturare casa. Bene, torniamo in studio, eravamo alla premiazione dei Coulibaly, ma c'è stata anche la motivazione, perché a premiare il giovane Amaranto Celesti è stato il vice direttore Cristiano Diociaiuti. Non so se c'è il supporto dell'intervista, regia, la possiamo mandare? No, mi dicono di no. E quindi, secondo voi, il discorso di Coulibaly? C'è un collegamento, mi dicono, stasera andiamo a raffica così. Eccolo, pronto, buonasera. Ciao Giulio, non ti sentiamo? Non bene. Buonasera. Adesso ti sentiamo, è stata un po' una trasmissione particolare, abbiamo sentito prima al segretario generale della Lega Nazionale Direttanti per la partita che si giocherà sabato al Malio Scopigno, la finale della Lega Nazionale Direttanti. Ha ringraziato tutti, anche voi, anche la società Amaranto Celeste per il campo. E poi abbiamo mandato un attimo fa la premiazione di Coulibaly. Abbiamo anche ascoltato il vincitore del campionato, l'addetto stampa del Sandorau Tavarnelle. Ma domenica è stata una partita rocambolesca. Abbiamo visto i Laiis qualche momento fa, gol sbagliati, Davari, due clamorosi e un fuorigioco che effettivamente forse c'era, lo abbiamo visto rallentato di Coulibaly. Andiamo per ordine. È l'ultima volta che avete giocato in casa, che cosa ti senti di dire? Ma guarda, Sbero, vi ho seguito per tutta la trasmissione, quindi permettimi di cominciare con un tanti complimenti per il Sandorau Tavarnelle, che a mio avviso ha strameritato la vittoria del campionato e per quanto riguarda la partita di domenica, insomma, l'abbiamo visto tutti. Purtroppo nel calcio se non fai gol poi alla fine rischi di pagare e così è stato. Mi dispiace perché comunque credo che avremmo sicuramente meritato miglior sorte, però, ripeto, il calcio è anche questo. Adesso dobbiamo concentrarci tutti per la partita di domenica per fare questo punto che ci consentirebbe di giocare il play-out in casa e poi il 22 ci giocheremo il dentro o fuori contro Poligno o Unico-Mezia e insomma, ce la metteremo sicuramente tutta per rimanere in sedi. C'eravamo sentiti io e te prima della partita dicevamo che c'era anche una piccola possibilità vincendo la gara con il Gavorano addirittura di essere salvi senza passare per i play-out è giusto? Sì, purtroppo si è verificato quello che dicevamo io e te prima della partita con la piccola differenza che noi abbiamo vinto perché purtroppo se torino purtroppo perché io personalmente ci credevo e Foligno ha perso e Unico-Mezia ha pareggiato contro la San Giovannese quindi si erano diciamo incastrati i risultati perfetti però ripeto purtroppo noi non abbiamo portato a casa i tre punti quindi dobbiamo concentrarci per fare play-out Giulio sei di parte ma puoi anche sbilanciarti abbiamo premiato Koulibaly come tribuna stampa sei d'accordo su questa premiazione? è scontato che mi dirai sicuramente di sì oppure pensavi che i voti fossero andati ad altri giocatori? ma sicuramente Omar si sta comportando bene adesso purtroppo è stato un po' fermato da un infortunio però da quando è arrivato sicuramente ci ha dato un grosso contributo ma così come ci ha dato una grossa mano emiliano tortolano da quando è arrivato ma così come tutti quelli che ci sono dall'inizio non hanno mollato stanno secondo me facendo il loro buonissimo campionato che nel giorno di ritorno credo che Rieti abbia fatto sicuramente un grosso cammino sicuramente con tanto rammarico per le ultime uscite però ricordiamoci dove eravamo alla fine del giorno di andato e dove siamo adesso quindi ripeto secondo me tutti meriterebbero un grosso incognio da parte nostra sì infatti dici bene perché nel giorno di ritorno ci sono state sei vittorie e sei sconfitte quindi insomma le cose non è che siano andate troppo male che abbiamo forse mancato nel giro di andata una domanda di Simone Lunari buonasera direttore una domanda semplice volevo sapere dopo questa sconfitta insomma che a mio avviso non è stata meritata perché vista la partita la potevamo vincere com'è l'umore della squadra in generale hai detto bene secondo me anche secondo me la sconfitta arriva in modo immeritato però come ho già detto prima purtroppo il calcio è anche questo magari ci sono delle volte in cui meritavamo qualcosina in meno abbiamo raccolto i tre punti domenica secondo me una squadra che doveva vincere era i chiedi però purtroppo ci dobbiamo prendere questa amarezza quindi è ovvio che i ragazzi siano un po' delusi perché comunque ripeto poi guardando anche i risultati arrivati agli altri campi rimane ancora più a mano in bocca però dobbiamo subito voltare pagina perché domenica ci aspetta un'altra partita complicata quindi abbiamo bisogno di fare almeno un punto e poi il 22 proveremo a fare il massimo per rimanere in questa categoria consapevoli che sicuramente abbiamo tutte le armi per farlo perché comunque non credo che i rie di oggi sia inferiore al Foligno o al Nipomezia però ripeto poi una gara secca può succedere tutto il contrario di tutto personalmente mi è dispiaciuto tantissimo i due gol sbagliati perché ho ribadito ancora una volta sbagliati da vari giocatore con i piedi buoni un giocatore che ha segnato in campionato parecchi gole importanti non pensavo che potesse sbagliare due gole di quel tipo solo due volte davanti al portiere sì ma purtroppo sono cose che capitano c'è anche la bravura del portiere soprattutto sulla seconda occasione ma anche su occasioni che aveva nel secondo tempo mi viene in mente la parata sulla conclusione di Vittorio Attili anche nel primo tempo ha avuto un'occasione di Martino e il portiere è stato bravo purtroppo il portiere fa parte del gioco quindi bisogna anche dargli giusti meriti però sono convinto che nonostante la sconfitta la squadra ha fatto una buona partita quindi c'è da essere moderatamente fiduciosi perché rispetto probabilmente alla partita con l'unico Mezzia dove effettivamente il risultato secondo me anche in quell'occasione è stato un po' eccessivo però in quell'occasione possiamo dire che la sconfitta era arrivata in modo l'unico Mezzia ma è stata vincere Giulio io ti ringrazio tantissimo di questo intervento ci vediamo domenica sabato allo stadio verrai a vedere la finale certo e poi voglio vederti ancora in casa perché dobbiamo giocare il play out in casa questo è sicuro va bene ciao speriamo buona serata abbiamo sentito anche il direttore stasera non ci siamo fatti mancare nulla e andiamo a vedere io perché ho detto che bagarre che cosa succede in questi ultimi 90 minuti gli ultimi 90 sono davvero davvero particolari vedete c'è lo Scandicci a 40 punti che deve giocare fuori casa a Tiferno la San Giovannese che ne ha 38 gioca in casa con l'Ornano quindi ancora non è deciso chi è la squadra delle due che si salva e sotto c'è anche la decidura il Riedi giocherebbe in casa il play out se me l'abbiamo detto vince o pareggia a Montespaccato invece dall'altra parte c'è il Riedi 34 punti che gioca a Montespaccato mentre il Foligno gioca in casa con l'Unipo Mezzia per l'Unipo Mezzia che praticamente gioca a Foligno a questo punto Simone si sono un po' incrociate le cose perdendo noi abbiamo ai noi dover giocare o a Foligno o a Pomezzia perché l'Unipo Mezzia da 31 potrebbe andare a 34 ma avendo vinto due volte contro di noi ha il miglior piazzamento per cui giocheremo fuori casa insomma si stanno mettendo le cose negli ultimi 90 minuti è chiaro è chiaro che dovremmo fare la nostra partita dovremmo guardare a casa nostra e guadagnare almeno quel punto che ci serve per fare uno scontro in casa che ci permette di avere due risultati praticamente positivi è difficile tutto quanto sarà difficile perché comunque come ha detto anche come è stato detto in precedenza nessuno regala niente nessuno viene per regalare niente noi dovremmo fare la nostra buona partita siamo in grado di vincere le partite perché lo abbiamo fatto purtroppo siamo in grado anche di perderle quindi ci poterà molta molta attenzione in tutte e due le partite che si faranno e allora la rubrica la vostra opinione quella che ci siamo inventata negli ultimi parti di questo campionato dice proprio questo eccola Andresse a Montespaccato per vincere o abbottonatissimi per pareggiare questa è la domanda ecco secondo voi prima tu Simone dunque per me le partite vanno giocate sempre la nostra ha dimostrato di non essere una squadra che sa gestire le partite quindi andare abbottonatissimi forse sarebbe la cosa buona ma non è nell'indole di questa squadra quando fino ad ora non l'ha mai dimostrato quindi sarebbe andare un po' contro contro la propria natura Nunzio per te per me da un uomo di campo quale stessi stato per me devi andare a fare il parere il punto devi andare a prendere perché il punto ti serve in ogni caso e tu hai i play out in casa certo non serve la vittoria quindi non ti devi scoprire non devi prendere i golli in contropiede come hai fatto due settimane fa che hai preso i due golli in contropiede devi cercare di stare bello abbottonato e giocarti la partita poi siccome queste sono partite che sia al monte spaccato non gli interessa di vincere più di tanto sono partite che poi alla fine dell'ultima partita si accomodano da sole non perché ci sia un accordo si accomodano nel senso tu già fatti la tua parte io mi faccio la mia e finisce a taralluce e vino senza combine chiaramente no non ci sono combine ci sono l'ultima partita poi domenica Roma farà un caldo di quelli del coso si può pareggiare e abbiamo e d'altronde prima ho sentito qualche cosa è chiaro che o il Foligno o il Pomezia non faranno i play out e una delle due non lo farà uno delle due non lo farà certamente no in casa li faranno no non lo faranno il play out perché ci avranno più di otto punti di distacco dalle cose prima ti ho sentito parlare ma volevo correggerti adesso entriamo leggermente se sei d'accordo entriamo sicuramente in merito di questo discorso vediamo riprendiamo la schermata dei punti e quello che sarà il prossimo incontro i prossimi turni per vedere come si combinano le squadre ma per chiudere questo discorso dell'opinione ho sentito anche delle persone quattro addirittura vogliamo vedere la prima cosa ha detto il primo messaggio questa è la schermata che vogliamo dopo per poterne parlare ho chiesto ho fatta questa domanda a qualcuno il primo risponder mi è stato Carlo dico solamente Carlo senza e mi dice visto che fuori casa abbiamo vinto solo due volte con Cannara e Flaminia andrei a Montespancato ben chiuso per pareggiare definiti a quello che dici tu quindi non c'è non c'è bisogno bisogna stare coperti e non prendere il gol in contropiede poi tu puoi farti la tua partita puoi vincere puoi perdere ma soprattutto non prendere gol perché sei scoperto certo quindi non c'è bisogno di commentarlo il secondo invece Mario mi dice fuori casa abbiamo fatto sei pareggi perché non puntare al settimo quindi sostiene di andare lì per pareggiare ma quando si va per pareggiare c'è il rischio poi che prendi il gol magari all'ultimo minuto Simone il problema è questo di questa squadra che ripeto magari fosse dovrebbe essere così la normalità andare lì cercare almeno di prendere un pareggio quindi fare anche una partita se occorre sporca il problema è che questa squadra non so se nella sua natura ha questo tipo di calcio non mi sembra fino a ora Massimo invece mi dice che la miglior difesa è l'attacco partirei per vincere praticamente dice partiamo per vincere poi quello che viene porta bene chiaramente se partiamo per vincere anche un pareggio diventa diventa quasi scontato quando si fanno queste partite di fine anno con squadre che non hanno nessun interesse perché il monte spaccato è salvo no? perché torno a ripetere quello di prima il monte spaccato è salvo l'importante è non creare degli attriti durante la partita cioè lì poi in mezz'anno ci saranno pure giocatori romani giocatori che in modo da dire insomma è normale legge del calcio non c'è bisogno di accanirsi poi uno può pure perdere perché il gol può uscire ma se non te lo vai a cercare sicuramente finirà una partita e può finire 0-0 certamente e Luca invece l'ultimo mi dice è monte spaccato è il nono miglior attacco e la decima miglior difesa io andrei per pareggiare hai ragione con i numeri diciamo è riuscito a cogliere nel segno bene ora torniamo a quello che dicevi allora io dicevo questo se se la San Giovannese vince che sta a 38 e va a 41 una delle due il Pomezia e il Foligno è retrocessa matematicamente perché ha più di 8 punti di svantaggio se perde se perde siccome c'è Foligno Pomezia sì Foligno Pomezia rimanendo a più di 8 punti da una di queste squadre che sta a 41 è retrocessa e non fa i play out mi senti? quindi sarebbe solamente il play out quello che farebbe Riedi la Riedi con una delle due secondo il risultato che vanno a fare cioè se vincesse l'unico Pomezia sarebbe a Pomezia no sì no se Riedi perde se Riedi perde se Riedi perde rimane a 34 e Pomezia vince a Foligno va a 34 e giochi in casa del Pomezia giochi a Pomezia perché il Pomezia mentre se vince il Foligno il Foligno va a 35 e Riedi rimane a 34 e se lo fai sempre a Foligno però ecco perché devi prendere un punto noi sì lo sappiamo però tu dicevi se vincesse la San Giovannese o lo Scandicci no lo Scandicci vabbè lo Scandicci e il Tiverno sì la stessa cosa la stessa cosa lo Scandicci sta a 40 il Pomezia se perde sta a 31 o il Foligno sta a 32 sì però voglio dire sono cose che ci interessano poco a noi ci interessano questi sono già fuori infatti a noi non ci interessano infatti ho voluto mettere nella schermata tutte le squadre coinvolte quello che bisogna dire è che il Foligno e il Pomezia se la San Giovannese vince una delle due è matematicamente retrocessa certo perché sono più di 8 punti e quindi il play out sarà fatto da Riedi e Foligno o da Riedi e Pomezia o da Pomezia e Foligno no da Pomezia e Foligno non può essere no è impossibile la Riedi oramai fa il suo play out fa il suo play out e bisogna vedere se in casa se pareggia lo fa sicuramente in casa se invece perde lo fa sicuramente fuori e questo non è poca cosa sicuramente fuori perché potrebbe pareggiare Foligno e Pomezia e allora rimane quello che però abbiamo detto con il direttore del girone di ritorno che è stato un girone diciamo diverso da quello che è stato il punteggio dell'andata ci sono state infatti nel tutto il giorno di ritorno fino a domenica scusa la partita con il monte spaccato due quattro sei vittorie ci sono stati tre pareggi e due quattro sette sette sconfitte mentre nel girone d'andata le cose erano diverse venivamo da solamente tre vittorie e addirittura uno due tre quattro cinque sei sette otto no dieci sconfitte quindi diciamo questa posizione di classifica anomala brutta per noi l'abbiamo maturata nella prima parte del campionato nel girone d'andata che al ritorno insomma qualche pezzo si c'è messa giusto? sicuramente l'abbiamo fatta nel primo diciamo nel girone d'andata quando si era costruita una squadra che avrebbe dovuto fare meglio non lo ha fatto e poi su quella sulle rovine di quella si è costruita una squadra che tutto sommato ha fatto bene con tutti i problemi che poi c'è avuto perché insomma sì è vero che ha fatto cinque sei risultati utili e qui tutti compreso te stesso avete salutato le cose io ero convinto personalmente ho capito però le squadre non si costruiscono così non si è improvvista niente nel calcio nel calcio bisogna fare una programmazione altrimenti fai quello che ha fatto l'Arezzo che ha speso ha speso ha speso e poi durante il campionato si è sfasciato e tante altre cose come abbiamo fatto noi che dovevamo fare un campionato di semi vertice e poi invece abbiamo fatto quello che abbiamo fatto e purtroppo questa è la realtà del calcio sai Nuzio perché dicevo questo e sostenevo questa tesi ora siamo quasi a bocce ferme manca una partita quindi il resoconto finale lo faremo quando avremo disputati i play out e saputo come finirà è perché per esempio fuori casa come andremo domenica fuori casa noi abbiamo conquistato solamente 12 punti in virtù due vittorie fuori casa sei pareggi e otto sconfitte abbiamo segnato 18 gol e subiti 29 quindi diciamo un ruolino pessimo fuori dal Maglio Scopigno ci siamo comportati meglio in casa capisci che cosa voglio dire no per salvarsi la nostra squadra secondo me per come è stata costruita nel girone di ritorno ha fatto un miracolo cioè ha fatto un miracolo in quelle 5 6 partite che poi tutto sommato nelle ultime due partite che ha perso poi perché ha perso col Gavorano non ha giocato neanche tanto male nelle ultime due partite sia col Gavorano che quell'altra precedente che non mi ricordo con chi era col Cascina abbiamo perso 2 a 1 con l'Uni Pomezia abbiamo perso 4 a 1 praticamente abbiamo preso nelle ultime tre partite 8 gol segnandone 2 e vabbè è vero pure che tu sei andato a giocare con le ultime in classifica sei andato a Pomezia e ne hai presi 4 sei andato a Cascina e hai perso 2 a 1 che si poteva evitare quella lì ma questo è il livello della nostra squadra ragazzi se noi crediamo che abbiamo messo su una formazione competitiva in un campionato di serie D messa su all'ultimo così tra una cosa e l'altra diciamo delle falsità perché st'altro anno si riparte con lo stesso discorso st'altro anno devi organizzare una squadra puoi anche partire con i giovani ti torno a ripetere il Gavorano ieri giocava con 7 under era una squadra equilibrata perché c'è partita con quella maniera tu ci puoi anche partire con i giovani ma ci devi partire dall'inizio cioè i vari vari questi qui che sono tutti bravi giocatori debbono essere sostenuti da 3-4 persone anziane messe nei ruoli chiave della formazione allora tu puoi fare anche un ottimo campionato senti siamo quasi in chiusura mancano 3 minuti altrimenti ci sfumano dovremmo dire tantissime cose ma lo faremo sia martedì prossimo che a fine del campionato tu mi dicevi in tribuna stampa domenica scorsa guarda che in 60 anni mi sembra è la prima volta che non si parla di settore giovanile così mi hai detto giusto? io sì le dico questo perché tempo fa un genitore di un ragazzo mi disse voi non parlate mai di settore giovanile però io dico sì è vero che noi forse qui è colpa nostra non ne abbiamo parlato però io continuo a sostenere è la prima volta da che io vengo in trasmissione sono anni che non parliamo di settore allora non si sa dove giocano non viene un dirigente qui a dire qualche cosa io mi informo e vado a vedere le posizioni di queste squadre che non so neanche se sono della Rieti non sono della Rieti chi sono i giocatori allora mi sarebbe piaciuto durante l'anno che qualcuno venisse qui e in qualche modo ci incentivava anche a parlare quei 5 minuti 10 minuti di parlare di qualche ragazzo bravo che ci poteva essere perché poi alla fine insomma è più interesse della società interesse degli allenatori interesse dei dirigenti far sì che noi qui tu in particolare quindi non solo colpa nostra ma io non credo io mi prendo le mie colpe perché ho sempre parlato di settore giovanile ho sempre parlato di settore giovanile e volevo pure dire tornando alla questione di prima è stato giusto che voi giornalisti avete premiato Coulibaly io avrei premiato Falilò ma non perché Coulibaly non se lo meritava perché Falilò durante l'arco di tutto l'anno ha dato sicuramente più di tutti ecco il settore giovanile quando si parla di giovani ne avrei modo di parlare magari martedì prossimo un pochettino di più e poi a fine campionato faremo un po' al punto della situazione siamo in chiusura vediamo il prossimo turno e poi i 30 secondi ciascuno un prossimo turno che è l'ultimo di campionato e giocherà Arezzo Flaminia Foligno Nipomersia Cavorrano Tressina Montespaccato Ritivo Gibonsi Cascina Prolivo Ornovianese Sandonato Cannara San Giovarnese Lornano Tiferro Scandicci abbiamo detto tutto per quanto concerne questi scontri incrociati quindi un prossimo turno che definirà praticamente la retrocessione di qualcuna definitiva come dicevi tu e poi ancora altri 90 minuti anzi no perché ci sarebbero si terminassero in parità anche i tempi supplementari ci sono i tempi supplementari e poi la migliore squadra è certo uno 0-0 al fine dei tempi supplementari passerebbe passerebbe la squadra che premierebbe la squadra che sta avanti che si è classificata meglio nella regola al season direbbero equilibrata allora 30 secondi Simone 30 secondi è stata veloce stasera sono rimasti due piccoli passi da fare ci occorrono alla fine due punti quindi due pareggi io parlo delle due partite che mancano quindi anche poi già si è proiettato sul play out mancano due piccoli passi due pareggi due punti facciamoli e finiamo questa stagione e poi restiamo a ricominciare 30 secondi Lunzio niente i miei 30 secondi sono diciamo debbono essere di preludio a martedì prossimo che è l'ultima di campionato in vista play out capisci in 30 secondi di che cosa possiamo raccontare domenica domenica bisogna non giocare la partita cioè bisogna andare a fare la passeggiata a Roma e non giocare la partita fare in modo che neanche gli altri si impegnino più di quello queste sono le normali partite di fine di fine coso non scoprirsi giocare per giocare la partita seriamente noi gli altri la giocassero come la vogliono e poi prepararsi per i play out perché le squadre che insomma andremo a incontrare sono sicuramente alla nostra portata bene abbiamo detto tutto o quasi fuori non so se il l'ubifraggio sia terminato abbiamo sforato di qualche secondo perché abbiamo iniziato con un po' di ritardo causa proprio il temporale che ci teneva un attimo all'oscuro poi le telefonate gli interventi insomma questa sera abbiamo cercato di correre abbiamo affrontato tanti temi ma ci torneremo martedì prossimo torneremo per il sunto del campionato in vista play out chiaramente e io ringrazio capitano Nunzio Lucci Simone Lunari e con voi ci vediamo martedì prossimo buonasera i candidati le liste e i programmi elettorali come si vota dove si vota a queste e ad altre domande risponde a Rieti Life Magazine speciale lezioni tutte le informazioni più utili in vista delle prossime amministrative le trovi qui vuoi esserci? contatta il nostro ufficio marketing per conoscere i dettagli Rieti Life Magazine speciale lezioni il magazine che serviva un'idea Rieti Life igiene e sicurezza nell'ambiente in cui lavori scegli Puligen prodotti e attrezzature per pulizie civili e industriali al tuo servizio fabio grillo agenzia funebre unica sede viale de Iulis 68 70 72 Rieti telefono 0746 20 30 34 acqua di fonte Cottorella dalla fonte direttamente a casa tua acquistala su www.cottorella.com big mat ed il tutto dal 1981 tutto per costruire e ristrutturare casa a casa